Magnifica presenza è la trasposizione teatrale del film di Ferzan Ospetek. Anche in questo caso il regista Italo Turco ha creato un spettacolo di grande emozione ma soprattutto di grande atmosfera che oscilla tra il comico ed il drammatico e che incanta il pubblico. Non a caso gli applausi sono stati elevatissimi sia nella prima che nella seconda serata al Signorelli. Con un gruppo di attori straordinari, a partire dal giovanissimo Federico Cesari, protagonista assoluto con Tosca d'Aquino e Serra Ilmaz, lo spettacolo è stato tra i migliori visti sul palcoscenico del Signorelli ma sentiamo proprio Serra Ilmaz che abbiamo sorpreso mentre si stava truccando dentro il camerino del Signorelli. È una trasposizione di film, come lo sapete, di magnifica presenza ma che è diverso dal film perché Ferzan, essendo sempre uno che inventa, crea, cambia. Non è proprio... ci sono delle cose che non c'erano nel film e altre che c'erano nel film che non ci sono qui. Quindi è un po' diverso e poi è comunque sempre diverso vedere qualcosa sul palco. Com'è andata? Com'è andato l'impatto con il Signorelli? Io dico dalla parte mia, dal palcoscenico, avevo come l'impressione che all'inizio il pubblico era un po' così esitante, non sapendo proprio... Poi man mano si sono rilassati, si sono lasciati andare e mi sa che si sono divertiti. Grazie!